Ciao a tutti e tutte. È passato esattamente un anno dall'offensiva del generale Khalifa Haftar contro la capitale Tripoli e contro il governo internazionalmente riconosciuto di Faiz Serraja. L'operazione, con il sostegno delle forze regionali ed internazionali, aveva e ha l'obiettivo di mettere sotto il controllo del generale tutto il paese, di liberare la regione occidentale della Tripolitania dai gruppi terroristici. Come anche altri autocrati della regione, la lotta al terrorismo e ai gruppi legati anche all'Islam politico è stata la scusante principale per ottenere piena legittimità popolare e per accaparrarsi il sostegno di potenze regionali come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e l'Egitto, paesi che da sempre sono ostili a movimenti islamisti e soprattutto a quei gruppi legati alla fratellanza musulmana. Ad oggi, seppur l'operazione non ha portato a nulla di concreto sotto il punto di vista politico, di contro ha prodotto una grave crisi umanitaria. Si parla circa di 300.000 affollati tra donne, uomini e bambini e di circa 3.000 vittime. Il generale all'inizio dell'offensiva aveva promesso alla popolazione di concludere le ostilità entro 48 ore. Oggi, ad un anno di distanza, seppur Haftar controlli la maggior parte del paese, l'impresa di raggiungere il potere sembra ancora molto lontana. Un potere che tuttavia è già segnato, ragionando in termini democratici, al generale manca la regione più popolosa del paese. È una sua probabile vittoria anche in questi periodi dove il paese sta fronteggiando anche la crisi del coronavirus. Haftar, dopo di numerosi crimini commessi, non avrebbe quella legittimità popolare di un'ampia fetta della popolazione. Se in un primo momento anche la stessa una parte della popolazione di Tripoli aveva visto di buon occhio l'operazione di Haftar come mero tentativo di stabilire l'ordine e la stabilità nel paese, ad oggi tutta la fiducia riversata verso il generale è ormai scemata e ha allontanato di fatto ogni probabilità di pace. Dal fronte del governo di Tripoli l'inizio dell'offensiva ha generato un graduale isolamento da parte del governo di SRH sia a livello internazionale e sia a livello interno. La profonda crisi economica, soprattutto data anche dal recente blocco delle esportazioni del greggio e l'incapacità delle istituzioni governative di controllare le milizie armate sul campo, hanno di fatto indebolito il ruolo di SRH. Una personalità ormai priva anch'essa di legittimità popolare e non è un caso che i veri artefici della strategia di Tripoli sono gli uomini legati alla città-stato di Misurata, unica nella forza militare che ad oggi è riuscita a respingere la maggior parte degli attacchi di Haftar. Da sottolineare inoltre sempre dalla città di Misurata le personalità all'interno del governo di Tripoli che stanno continuando a sorreggere e tenere in vita un governo di fatto moribondo come ad esempio Ahmad Maitig e Fateh Bashara. Detto ciò è anche bene ricordare come lo stesso governo di SRH sia rimasto isolato dall'assenza della comunità internazionale che di fatto ha facilitato l'entrata fisica e militare all'interno del conflitto da parte della Turchia che di conseguenza ha poi allargato tutto il conflitto sul bacino del Mediterraneo. Ad oggi, ad un anno dall'offensiva, la strategia di Haftar si è rivelata del tutto fallimentare, soprattutto sotto il punto di vista della legittimità popolare che egli goda all'interno del paese. La sua immagine è ormai tramontata sia sul fronte di Tripoli, considerando i gravi crimini di guerra commessi, ma anche all'interno della stessa Cirenaica che controlla da più di cinque anni. La popolazione è ormai stanca sia degli annunci propagandistici del generale, ma sia e soprattutto per l'alto livello di repressione autoritaria che gli stessi cittadini subiscono quotidianamente. Grazie.